La radice della P2 va trovata nella situazione internazionale del nostro Paese. Noi nel libro che Antonio e Gianni Cipriani hanno scritto, Sovranità limitata, mi sembra che abbiano illustrato bene la condizione per cui in Italia abbiamo la P2. E l'abbiamo in relazione alla situazione internazionale, alla condizione in cui il nostro Paese vive di sovranità limitata. Per cui in Italia abbiamo il fenomeno della doppia lealtà anche per chi serve lo Stato. Lealtà per la Costituzione Lealtà che ci viene imposta per una politica di impegni internazionali Impegni del patto atlantico Allora ci troviamo di fronte a chi ha dato la priorità agli impegni che vedevano la Costituzione E la P2 è stato proprio lo strumento di organizzazione degli ufficiali E non a caso nelle liste della P2 troviamo ufficiali superiori dei servizi segreti Delle forze di sicurezza, carabinieri, polizia Troviamo stato maggiore dell'esercito, della marina, dell'aeronautica Troviamo esponenti di primo grado dei vari ministeri Assieme a dirigenti delle banche, del ministero del tesoro, del ministero del commercio estero Dei grandi vitali dell'economia del Paese E guardate, io ricordo che quando ero nella commissione di indagine Sulla loggia massonica P2 La verità ci venne spiantellata da un colonnello All'epoca Il colonnello poi ha fatto carriera e diventato generale Il generale Viviani Che è stato capo del controspionaggio Poiché nelle liste della P2 venne anche lui interrogato Ed egli disse apertamente che si è riscritto la P2 Perché gliel'aveva chiesto Sednaui, che era il vice capo stazione della CIA All'ambasciata americana di Roma Dopodiché, dopo questa dichiarazione Capimmo che la stessa ambasciata americana Si preoccupava di organizzare gli altri ufficiali E il fatto che troviamo lo stesso capo stazione della CIA Overt Stone Iscritto la P2 con la visione di industriale Questo industriale era una finzione Era il capo della CIA che contava E quindi come capo della CIA Svolgeva quell'attività di rituntamento Degli ufficiali Per avere la garanzia Che coloro i quali facevano carriera Dovevano rispondere a quella fedeltà Al pacco atlantico O comunque fedeltà Per cui l'Italia aveva una posizione subordinata Ecco, direi che da questa situazione Nascono tante traversie del nostro paese Caso Moro Strategia della tensione Perché la P2 si trova al centro A tirare le fila di gran parte di questa situazione La P2 opera in due fasi ben precise C'è una prima fase Nella quale ricorre alle stragi E non è un caso che troviamo Noti Appartenenti alla destra estrema Troviamo ufficiali che hanno avuto parte nel colpe Prende il colpe borghese Ricci Tanti altri Adesso i nomi hanno una relativa importanza Perché sono tutti defunti E non è passato tanto tempo E direbbero alle nuove generazioni Ma a noi nel momento in cui scopriranno Scoprivamo queste cose Dicevano molto Perché hanno partecipato a quel colpe Hanno partecipato a un altro colpe Il colpe sogno di Elgardo Sogno Ebbene Si sono compiute stragi Come la strage di Piazza Fontana Strage di Bresci Dell'Italicus Fino al 1974 E nel 74 Quando era programmato Il colpe di Elgardo Sogno E Elgardo Sogno L'ha scritto nel suo testamento Che era in contatto con gli americani Quando Ordiva quella rete Ed aveva Ereditato i contatti Con tutti coloro I quali avevano già partecipato Al colpe borghese Quindi era Quel tipo di organizzazione Ebbene Quel tipo di organizzazione Rispondeva a quello Che era Il programma di allora Di guerra psicologica Per spostare l'opinione pubblica Non è un caso Che inizia Con la strage di Piazza Fontana Nel 1969 Dopo Il grande movimento Degli studenti Delle donne Degli operai Che colpiva La società Che colpiva Il mondo culturale Che coinvolgeva La società civile E lì Quando diventa Unità Fra questi movimenti E la classe operaia Proprio Nell'autunno Del 1969 Si arriva Alla proclamazione Dello siopero Generale In Italia Per la casa Ma vi partecipano Anche Gli studenti Rappresenta Una grande manifestazione E' da allora Che bisogna intervenire Per far deviare Quell'orientamento Quella E' di nuovo La presenza Di una Prospettiva Di conquista Di posizioni Di governo Da parte Della sinistra Il ritorno Della sinistra Al governo Viene impedito Attraverso La strategia Della tensione E Gli uomini Della doppia Lealtà Agiscono E agiscono Organizzati Come ho detto In stretto Contatto Con le autorità Americani E con le autorità Del patto Armand Ecco La P2 E' stato Questo Nella prima fase